Vittoria meritata, ci sono delle cose positive al di là del risultato, insomma Vittoria con due gol di scatto, Pescara non prende gol, avete rischiato poco, avete avuto delle occasioni, insomma quello che ci si aspettava alla vigilia? Sì, più o meno è stata così, anche se in alcuni momenti potevamo essere più continui e dare ancora un po' più di geometria, però ogni tanto ci sembra che abbiamo il braccino corto, soprattutto nel secondo tempo c'era uno spazio e avremmo potuto gestire meglio la palla, per alcuni momenti non lo abbiamo fatto. Da questo punto di vista dobbiamo crescere, però poi la vittoria è meritata, abbiamo fatto anche una buona gara, creando, costruendo senza concedere praticamente nulla, sono alcune situazioni su palla inattiva che vabbè ci possono stare. È un inizio, diciamo è un nuovo inizio, deve essere una base di partenza perché alcune cose le dobbiamo migliorare, ci mancherebbe altro. La seconda volta in stagione, Pescara vince due partite di fila, era accaduto proprio in un'avventura di campionato, potrebbe essere questo un segnale più importante in questo momento di campionato della stagione? Le vittorie danno più serenità, questo sicuramente, sono stati dei momenti dove c'era un po' di tensione, dove chiaramente non avevamo fatto bene, e questo comportava qualche contraccolpo psicologico perché comunque è una squadra anche giovane questa, soprattutto adesso, è una squadra che ha una unità media, bassa, però, ripeto, deve essere un dato di partenza. Siamo ritornati a giocare, lo possiamo fare meglio e con più continuità tutti e le partite vanno gestite anche in un modo migliore rispetto a come l'abbiamo gestita sull'1-0, fino all'1-0 nel secondo tempo. Poi quando abbiamo fatto il 2-0 li siamo sciolti un po' di più e siamo riusciti a creare ancora qualcosa anche perché in quel momento c'erano spazi, spazi che potevi aggredire. Mi faccio un'ultima domanda, poi lascio vedere, da quando ha bacchettato Diango qualche settimana fa, ora si sta vedendo in campo un giocatore totalmente diverso, oggi è andato anche in gol? Ma a parte il gol, anche oggi la sua partita è stata un po' discontinua, è cresciuta, ha fatto bene, ripeto, deve essere la base di partenza perché ha fatto due partite, non è che ha fatto due finali di Champions League e magari li ha vinte. Quindi è una base di partenza, ma lui ha qualità, poi sono ragazzi che hanno anche qualche discontinuità mentale e su questo noi dobbiamo agire, però per un ragazzo che ha qualità, ripeto, deve essere una base di partenza, si resetta tutto e si lavora ancora più forte e con ancora più determinazione. Ministro, il problema di questo squadra, di là della serenità, era stato probabilmente un problema di identità, per la prima volta si comincia a vedere un paio di giornate sullo stesso gruppo, questo vuol dire qualcosa, siamo in fronte a una nuova fase del campionato, un gruppo scelto per il prosseguo? Questo lo dovremmo verificare, come ho detto prima, dobbiamo dare continuità alle prestazioni, possiamo fare partite ancora più continue e ancora migliori di quelle che abbiamo fatto oggi, il fatto di aver cambiato tanto, io non è che avrei voluto venbiare, però obiettivamente le chance vanno colte, le chance le ho date a tutti, ma a tutti, qui non c'è un giocatore che può dire io non ho avuto chance, non ho giocato, sono stato messo in disparte. In alcuni momenti questa non continuità che sembra che abbiamo trovato in questo momento è divisa dalle scelte e quindi a volte abbiamo anche cambiato modo di stare in campo, ma non perché non siamo in grado di fare altre cose dal punto di vista tattico, è perché nel gioco delle scelte, nel gioco del merito, e qualche volta, e qualche volta, anzi, quasi sempre le responsabilità sono mie perché alcune volte ho sbagliato le scelte, fidando, su quello che potevano, su quello che potevano dare, e invece no, adesso abbiamo acquisito continuità, ma io come ho detto precedentemente, anche chi è stato scelto prima non viene abbandonato assolutamente, però voglio riscontri sul campo, insomma, perché chi di speranza campa, di sperato muore. Io, è vero sono due partite, però ho notato che gli undici micro-setters di oggi, soprattutto all'inizio, hanno davvero tanta tranquillità, trovano giocata, poi sbagliato, le persone giocate che hanno provato a saltare l'uomo, non ci sono riusciti, però ci provano, cioè hanno una tranquillità maggiore, hanno una giocata, hanno molto più veloci, hanno idee, crede che questi nuovi abbiano meno pressione per cui giocano con più libertà, rispetto a tutti, è come se non ci fosse qualcosa a prestare? In realtà abbiamo ritrovato l'ordine di squadra e la continuità, noi sappiamo fare bene alcune cose, questa squadra è nata in un certo modo, però dicendo questo non voglio togliere dei meriti a nessuno, in questo momento le scelte che ho fatto stanno dando riscontri, non sempre è stato così nel passato, e questo tante volte, a di là di come stavamo in campo, perché in campo siamo sempre stati comunque ordinati, ma anche prima, anche quando abbiamo giocato in un modo diverso, ordinati e propositivi, adesso le scelte, fa piacere che un ragazzo come Erasi stia facendo bene, ci dà grande quantità e grande solidità anche dal punto di vista difensivo, oltre che dal punto di vista della proposizione del gioco, e quindi siamo cresciuti, abbiamo tante cose da farci perdonare, per cui mettiamole da parte e lavoriamo soltanto sui difetti e sull'acquisire continuità ancora maggiore. Ministro, nel finale, quando è uscito Clemenza, l'agenda Polinsciai, Clemenza ha detto la fascia di capitano a Pompetti, un po' un segno di come se fosse nato un nuovo Pescara, non perché il Pescara debba avere la fascia, ma perché sta lasciando un Pescara diverso, con una carta di identità diversa, non è una carta di identità, però questi ragazzi sembrano essere più adatti a giocare in questi campionati rispetto ad altri compagni. Ma da parte di tutti c'è una consapevolezza diversa, la fascia di capitano, io ho scelto con dei criteri, chi appartiene o è appartenuto un po' di più a questa società, Clemenza è uno di quelli, non essendoci in campo Memuschiai, lo è stato Drudi, che poi oggi ho dovuto sostituire, che si va sull'appartenenza a questa società. Io sono moderatamente contento, però ho la capacità veramente di... abbiamo raccolto delle brice, abbiamo tante di quelle cose da farci perdonare e tanti di quegli obiettivi da dover inseguire, che dobbiamo immediatamente mettere da parte questi aspetti qui, nel senso, le cose positive, essere perseveranti invece in quello di analizzare a fondo le cose da migliorare, perché ci sono le cose da migliorare, su cui dobbiamo allo stesso modo essere perseveranti. Certo, come se non ci fosse la classifica, la squadra di oggi sarebbe una bella base per cui costruire un futuro, per tutti questi ragazzi, vero, e... Guardi, non voglio accampare scusanti, perché la maggior parte delle colpe sono mie, ma voglio dire, quello che appartiene a quello che è stato deve essere da monito e deve essere da riflessione. Comunque questa è una squadra che ha qualità, è un gruppo che ha qualità, è un gruppo che forse inizialmente ha inseguito obiettivi troppo più alti, ma sono stato io il primo a forzare questi obiettivi perché personalmente non mi piace giocare col braccino corto o per gestire le partite. Forse quello, di sicuro alcune partite anche con prestazioni importanti ci sono andate male, ricordo partite con la Reggiana, con la Vispesero, calci di rigore, con la Viterbese, pronti via, partite un po' anomali ne abbiamo avute, anche facendo buone gare, perché poi quando insegui risultati... niente, appartiene al passato, ricominciamo, è un gruppo giovane, ma come ripeto io non abbandono nessuno, quindi chi in questo momento sta fuori voglio vedere i riscontri sul campo, perché avremo bisogno come sempre di tutti e l'errore che non farò più è quello di sperare, quello che ho fatto prima, sperare che qualcuno poi, anche se non lo vedi benissimo in allenamento, ti possa dare, e come ho detto prima, questo non va bene, queste sono le colpe che mi rimprovero, perché avrei dovuto essere un po' più rigido da quel punto di vista, invece ho sperato che tanti giocatori, ma qui ci sono tanti giocatori che hanno qualità. Ma l'esempio è quello di Mimushaio, avete visto come è entrato Mimushaio, con grande umiltà, andando a contrastare, suggerendo, andando a gestire anche situazioni in palla al piede importanti, lo spirito deve essere questo, poi veramente, mi sento anche un po' in difficoltà a parlare di una partita che abbiamo vinto, tanti punti l'abbiamo lasciati per strada, per cui andiamo avanti.